Servono ambienti più salubri per agenti e detenuti, più operatori della polizia penitenziaria e bisogna risolvere le annose questione del sovravvolfollamento carcerario in Campania ed inserire tra i reati l'utilizzo dei microcellulari da parte dei detenuti. È la fotografia che emerge al termine di una delle visite che il SAP regionale e nazionale sta effettuando in questi giorni negli istituti di pena della Campania. In mattinata il segretario nazionale regionale Emilio Fattorello e il segretario nazionale Donato Capece hanno effettuato un sopralluogo all'interno dell'istituto minorile di Airola, più volte finito al centro della cronaca per una serie di episodi incresciosi. Nulla è cambiato, se non poco, rispetto a quando denunciammo la situazione un po' così particolare sulla salubrità dei posti di servizio. Certo, ci vogliono più risorse per poter mettere in sicurezza tutto l'istituto, il personale gli è stato mandato, forse necessi di un ulteriore personale qualora dovesse aprire un altro reparto detentivo. Più in generale in Campania l'allarme resta alto a causa del sovraffollamento degli istituti di pene per la mancanza di personale. Un sovraffollamento di detenuti di oltre mille unità negli istituti della Campania e abbiamo un sottorganico quasi di altre tante mille unità del corpo della polizia penitenziaria. Noi abbiamo problematiche grosse sugli istituti di Secondigliano, di Poggio Reale.